Il premio Verzotto Ancora amarezza per il finale di campionato dopo aver perso il nastro negli ultimi metri? Assolutamente no, c'è la consapevolezza che ha fatto un grande campionato da parte di tutte le componenti, della società, della squadra, di chi gira intorno alla squadra, dei nostri direttori, quindi siamo tutti molto contenti e soddisfatti e andiamo in vacanza molto serene. Si va in vacanza molto sereni, bisogna però affrontare la questione mercato a Montella. Due questioni soprattutto, le parole di De La Valle su Jovetic che in qualche modo ha fatto capire che può partire il giocatore e poi se ci può fare chiarezza sulla questione Pizarro. Non credo di essere in grado di rispondere a nessuna di tutte e due le domande. Jovetic si sa che è un giocatore da un grandissimo talento, che potrebbe avere ambizioni diverse, quindi penso come ha detto il presidente, come hanno detto i direttori, che possa esserci anche la possibilità che possa andare via qualora venisse adeguatamente pagato, quindi lo so e sono consapevole di questo. Ma Quagliarella potrebbe essere la spalla ideale per Pepito Rossi, se va via Jovetic? Ma guarda Pizarro, non lo so, un fulmine al ciel sereno, quindi staremo a vedere, valutiamo. Ma si è fatto un'idea di come possa essere successo? No, non con precisione, possono essere tante le situazioni, può darsi, non lo so, quindi sicuramente adesso i miei pensieri sono quelli di andare in vacanza e credo di non avere turbamenti. Insomma, dispiacerebbe, però è un giocatore fortissimo, a cui noi tutti abbiamo dato qualcosa, lui in campo ha ricambiato, poi vediamo se le strade saranno ancora insieme o no, dipende molto anche da lui. C'è un pensiero invece per il derby che si terrà qua a Roma domenica? È una partita nella partita, quindi immagino l'attenzione che ci possa essere, ma soprattutto lo spettacolo che ci sarà, quindi è una partita che mi avrebbe fatto piacere giocare. Non un pronostico, però secondo Montella chi sta meglio tra Roma e Lazio? Ma non lo so, sicuramente la Lazio è stata in momenti migliori nell'arco del campionato perché per gran parte del campionato è stata sicuramente una delle squadre più forti, più compatte, quindi i derby, a parte questo, credo che i derby siano sempre aperti. Tu ne dici sì molti i derby di cui uno con un poker, come si arriva al derby a livello psicologico? Ma ognuno ha la sua strada, ognuno ha le sue sensazioni, ognuno ha i suoi bisogni anche se vogliamo, quindi mi ricordo che ci arrivavo con voglia di segnare soprattutto. Montella io ti provo a fare la domanda, se dovesse andare via Jovetic, Guagliarella potrebbe essere la spalla di Ale? Guagliarella è un giocatore importante, ma ce ne sono tanti altri, insomma, quindi valutiamo, valutiamo, insomma, ci potrebbero essere tante soluzioni.